ciao benvenuta sul canale di dolci viaggi leggeri oggi voglio mostrarti come realizzo dei cremini cotti al forno gustosissimi brutti ma buoni infatti come puoi notare non sono bellissimi però fidati sono molto molto buoni e soprattutto non fritti ecco gli ingredienti per questa quantità dovrai utilizzare 2 uova 500 millilitri di latte scremato 4 cucchiai di zucchero 3 cucchiai colmi di farina la buccia grattugiata di un limone grande circa 4 fette biscottate e circa 5 6 biscotti speculos alla cannella e caramello comunque puoi utilizzare altri tipi di biscotti magari aromatizzati al limone o ciò che preferisci insomma oppure anche solo fette biscottate quindi non 4 ma un pochino di più che andranno a compensare i biscotti quindi pronti partenza via lascia da parte un pochino di latte circa due dita poi tutto il restante latte ponilo all'interno di un pentolino abbastanza ampio mettilo sul fuoco accendi ovviamente la fiamma e porta il tutto a bollore nel frattempo mescola le due uova all'interno del pentolino con le due dita di latte aggiungi la buccia grattugiata del limone aggiungi lo zucchero il composto ed ora la farina mescola bene fai cadere a filo il composto all'interno del latte che ormai avrà preso il bollore e poi mescola velocemente e molto bene cerca di non far fare grumi con fuoco basso fino a quando il composto non si addenserà così come vedi inserisci la crema all'interno di una teglia oppure di un vassoio ciò che più preferisci però ricordati che deve avere circa due centimetri di spessore e possibilmente deve essere rettangolare o quadrata fallo intiepidire esternamente poi ponile in frigo per circa quattro ore capovolgi la teglia aiutandoti con un piatto e poi taglia tanti quadratini vedi come ho fatto io nel frattempo però dovrai preparare la panatura quindi trita le fette biscottate e biscotti speculos vedi questo qua il biscotto speculos che tra l'altro è buonissimo poi unisci le due panature e mettile all'interno di un piatto prendi il quadratino aiutandoti con un cucchiaio buttalo all'interno della panatura e insomma impanalo e poi poggialo su una teglia rivestita di carta forno in forno a forno preriscaldato a 200 gradi per circa 25 minuti togli dal forno e fagli raffreddare poi coprili bene e poi porli all'interno del frigo per conservarli anzi freschi sono ancora più buoni lo so sono un po bruttini perché sono schiacciati però sono veramente buoni e diciamo tra virgolette sani perché non sono fritti e contengono comunque non tante schifezze e tolgono la voglia di buono quindi perfetti io ti saluto e grazie per aver visto questo video ciao ci vediamo al prossimo ciao ciao ti ricordo che se vuoi potrai iscriverti al canale cliccando qui dove vedi e poi se vuoi attiva la campanella che trovi a fianco perché così non ti perderai nessun nuovo video ciao ciao